Ciao, mi chiamo Paolo, Paolo Pelloni, faccio coach di learning e sono qui per te. Da oltre 20 anni aiuto le persone attraverso corsi di formazione, producendo e presentando corsi come questo. La mia passione è il parlare in pubblico e nel corso degli anni ho aiutato migliaia di persone a comunicare e a diffondere il loro messaggio. Ho avuto anche ruoli di vendita e marketing in diverse aziende e lo faccio tuttora, quindi la capacità di presentare efficacemente è di notevole aiuto anche per me. Nei miei corsi condivido anche la mia esperienza sia nelle vendite che nel digital marketing. Aiutare le idee a raggiungere un pubblico sempre più vasto non posso che essere a favore degli standard aperti. Per questo motivo sono diventato un membro della Document Foundation e uno dei cofondatori di Libre Italia. Entrambe le organizzazioni supportano gli standard aperti per i documenti e promuovono LibreOffice, dove aiuto nel team di localizzazione italiana. Oltre a tutto ciò, amo la mia famiglia, viaggiare è il buon cibo. Insomma, questo sono io in breve. Se vuoi avere più informazioni puoi visitare il mio sito o guardare il mio profilo online. Ho aiutato migliaia di persone, ma oggi sono qui per te, per cui approfitta del contenuto disponibile, ma soprattutto se hai qualcosa che vuoi chiedermi o dirmi, fallo. Entra in contatto con me, sarò felicissimo di sentirti. Grazie e buon apprendimento.